Sono Emilio, 74 anni, da quasi 50 anni sono prete e mi occupo di ascolto, di presenza dentro alla realtà del gruppo Aeper soprattutto la vicinanza con le persone che hanno bisogno di esprimersi di manifestare la loro vita, il loro disagio e anche le cose belle, la festa che è nel loro cuore di Aeper mi piace la vicinanza alle persone e la passione per le persone che fanno più fatica e nel trentesimo compleanno di questa realtà che ho imparato a conoscere dalla sua nascita e anche a seguirla passo passo, auguro la capacità di servizio un servizio intenso, attento per le persone che ci incontrano soprattutto i piccoli, quelli che non hanno voce, quelli che nessuno ascolta c'è un grosso bisogno, credo, nella società d'oggi di tutto questo e di presenze buone, calde e che hanno la capacità di condividere la storia di chi cammina insieme con noi grazie